Musica Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Siamo all'ultimo episodio di questa prima stagione di Formula 1 Round 21 da Abu Dhabi Dalla prossima settimana credo partirà la seconda stagione O addirittura dalla settimana dopo ancora Quindi vorrei creare al massimo una settimana di distacco Ma ora andiamo a vedere questa gara Perché ho avuto grandissimi problemi in termini di gestione delle gomme per tutto il weekend Siamo abbastanza vicini a Fernando ma facciamo molta molta fatica Questo bellissimo tramonto nel cielo degli Emirati Arabi Segna anche il tramonto di un'altra stagione di Formula 1 È stata una stagione appassionante Ci rivelerà forse un ultimo colpo di scena prima della fine? I piloti oggi correranno qui a Yass Island Tra 21 curve su giri di circa 5,5 km Ci sono lunghi rettelinei e due zone di RS Ma le opportunità di sorpasso sono poche In curva 8 e curva 11 Tanta azione ravvicinata Tanta velocità e tanta attenzione Ci aspettano nei prossimi giri E con me per assistere all'ultima gara del campionato C'è Luca Filippi È stata una stagione fantastica Luca Ed è stato un piacere commentarla con te Cosa ti aspetti di vedere stasera? Sì, è stato un anno a cardiopalmo E credo che la gara di questa sera non farà eccezione Abbiamo visto gran premi in ogni angolo del mondo Eppure il campionato è ancora aperto Ogni volta che veniamo qui ad Abu Dhabi Si avverte un grande senso di aspettativa E speriamo che la stagione si chiuda in bellezza Chiudiamo la stagione alla grande Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia Dopo le qualifiche di ieri Grazie al giro perfetto di ieri Kimi Raikkonen parte dalla pole position Con Daniel Ricciardo a scattare dalla seconda posizione E ora vediamo il resto della griglia Vettel, Rosberg, Fernando Alonso E Verstappen, Una McLaren, Sainz, Bottas e Daniel Chiat Raikkonen in pole Ha solo i due punti da Lewis Hamilton nel campionato E l'altra Ferrari, quella di Sebastian Vettel terza Quindi sono molto vicini sia al titolo costruttori che al titolo piloti Noi intanto andiamo ad elaborare la nostra strategia Proprio perché di conseguenza All'usura come di cui vi ho parlato precedentemente Ho cambiato un set di super soft con uno di soft Proprio per evitare problemi al finale Anche perché ho notato come L'usura delle super soft è uguale a quella delle ultra soft Ora siamo sulla griglia di partenza 4-5 luci accese 2 on board come potete vedere Partiamo ora con l'ultima gara del campionato Ottima partenza nei confronti di Sainz Subito all'inseguimento di Fernando Davanti a noi ci buttiamo all'interno E superiamo un numerevole vetture Attenzione in contatto con la nostra posteriore E la posteriore di un'altra vettura Siamo già in seconda posizione Incredibile Ma andiamo a vedere cosa è successo dietro Perché tante bandiere gialle Infatti come potete vedere Quello era Kimi Raikkonen Il leader della gara Che ha conquistato la pole E che lottava per il campionato Piloti con solo due punti di svantaggio Rispetto a Lewis Hamilton Che è partito dodicesimo A causa di una penalità di 5 posizioni Sulla griglia di partenza Ora è praticamente ultimo Quindi si mette davvero male per Raikkonen Che prima poteva ambire al titolo piloti Ma che ora dovrà fare il possibile Per recuperare Hamilton Qui ora al primo giro Su Richard una mossa che sinceramente non mi aspettavo Ma lui è andato davvero molto cauto In frenata E non ho potuto non sfruttare l'occasione Ma qui siamo noi All'andare lunghi in frenata E quindi lui ci passa Se noi proviamo una mossa all'esterno Prendiamo anche uno di quei segnali Che indicano la distanza alla curva Davvero mossa molto aggressiva Ma non riesce purtroppo Quindi siamo ancora all'inseguimento Ma non dobbiamo disperarci Perché durante il corso della gara Noteremo come la nostra velocità di punta È davvero davvero elevata Qui ora vedete che sorpasso di pura velocità Ancora prima della staccata Senza DRS Senza niente Qui Quindi siamo ripassati in prima posizione Al secondo giro Con un settore record E ora sarà abbastanza Facile Come detto in precedenza Tenere dietro Ricciardo Proprio perché la sua velocità di punta Non raggiunge la nostra Qui infatti vedete come Attenzione però C'è un contatto con la sua Anteriore sinistra E la mia posteriore destra E qui ripassa subito Il suo compagno di squadra Verstapp Perché ci sorpassa entrambi Dopo aver superato anche la vettura Di Sebastian Vettel Che non sta brillando in questa gara E attenzione Ancora all'interno Molto stretti Partiamo anche sul cordolo Un piccolo sobbalzo dell'auto Come avete potuto vedere E siamo quindi di nuovo In prima posizione Al quinto giro Stiamo per entrare ai box Ma attenzione Verstapp ci prende in pieno Siamo andati un po' lunghi Ma lui ci ha preso Completamente in pieno Senza Nessuna pietà E' una mossa un po' Un po' troppo aggressiva Per i miei gusti Ma Comunque Meglio Almeno non ci siamo rotti niente Qui ora stiamo rientrando ai box Appena iniziato il sesto giro Monteremo un set Di soft Come preimpostato All'inizio gara E vedremo di arrivare Fino alla fine Gli altri piloti Monteranno super soft Quindi sperano Una usura Maggiore Per le loro gomme Ma vedere come fanno passare 3-4 4 vetture Davanti a noi Hanno fatto passare Sainz Hanno fatto passare Rosberg Vetture che Probabilmente Non riusciremo più a riprendere Perché Oltre alla velocità Di punta Non abbiamo Un'aerodinamica Sufficiente Per competere Negli altri settori Infatti come vedete Appena usciti Dal pit Superiamo subito Sainz Ma Sul rettilineo Gli altri piloti Saranno quasi impossibili Da superare Infatti Vedete come Rosberg Già ha acquistato Un buon vantaggio E ora Ci buttiamo su Hulkenberg Che dopo parecchi giri Fa un bel salto Che Che ha effettuato Il pit E ci è uscito Davanti E Ora al giro Seguente Abbiamo Hulkenberg Dietro E anche Sainz Che è rimasto incollato Ma noi andiamo Lunghissimi Nella curva Prima del rettilineo Principale E consentiamo Entrambe le vetture Di passare Ma Non credo Possiamo fare molto Con la nostra velocità Possiamo provare A buttarci all'interno In caso di frenata lenta La parte loro E così è Andiamo anche al bloccaggio Testa a testa Ora con Nico Hulkenberg Che passa davanti Però esce lentissimo Quindi noi possiamo Provare L'incrocio di traiettoria E passarlo Abbastanza agevolmente Qui ora siamo al nono giro Bandiere gialle Dietro di noi Non ci riguardano Ma vedete come Hulkenberg Ora con DRS E miscela Passa All'esterno Ma C'è poco che può fare Da quella posizione E infatti noi Ricopriamo subito La nostra posizione Qui ora Abbiamo appena superato Una vettura Perché sta uscendo adesso Dai box Quella di Kiviat Che ha montato adesso Ultrasoft E che ce lo ritroviamo dietro Sarà un avversario Molto tosto Proprio per La sua Trazione in uscita Con gomme nuove E gomme Molto più performanti Delle nostre Noi ormai abbiamo Già Quattro giri Su queste gomme Dovremmo portarla Per altri quattro giri Sarà un bel problema Qui ora Infatti vedete come Con la scia Lui prova subito A A seguirci Noi abbiamo provato Una mossa diversiva Proprio per Rompere questo Questo meccanismo Di scia Che Consenta alle vetture Anche più lente Di restare incollate a noi E ora Kiviat All'esterno Prova una mossa Ma a noi ci porta Al bloccaggio Incredibile Mossa di Kiviat Bravissimo Qua Qua non c'è niente da dire È stato bravissimo È bello vedere Queste mosse Da parte degli A Che ha provato Una mossa all'esterno Portandomi all'errore E al bloccaggio Per poi superarmi Cambiando traittoria Qui ora però Una mossa molto decisiva E molto violenta Da parte nostra All'undicesimo giro Infatti Un contatto Un avvertimento Da parte della direzione gara Ma Lo lasciamo qui passare Proprio per sfruttare La trazione posteriore Con la scia E magari superarla Anche se lui Al diarese Attenzione però Lo tamponiamo anche Non dobbiamo permettere Che accadano errori del genere Perché potrebbero rovinarci La gara poi Qui ora Ancora Testa a testa Noi siamo all'esterno Proviamo a fare Una mossa simile A quella Che abbiamo effettuato Con Hulkenberg Però come vedete Lui è una trazione Nettamente Migliore Quindi ora noi Possiamo provare A buttarci All'esterno E superarlo Di pura velocità Con DRS È una passeggiata Veramente E andare molto cauti Qui in frenata E cominciava a farsi sentire A questo punto L'usura delle gomme E soprattutto Quelle anteriori Che si usuravano Molto di più Infatti Nei corvoni veloci Avevo grandi Problemi Qui ancora Lo stesso errore Vado al bloccaggio E ripassa Il nuovo Kiviat Dobbiamo tentare Una mossa simile A quella Del giro precedente Che tra l'altro È stata una bellissima azione Una bellissima lotta Con Kiviat Che però sta diventando Sempre più aggressiva E sempre più pericolosa Vedete come io Mi butto all'interno Lui non lascia lo spazio Sono costretto a rallentare E a cambiare la traiettoria A buttarmi A mia volta All'interno E E quindi Tentare una mossa forzata Qui ora Gli ha lasciato lo spazio In uscita Ma Lui Non ho capito il come Ha perso Il posteriore E quindi È andato a un contatto Con un Che il mag Però non si è fatto niente Infatti il giro seguente È di nuovo qui E di nuovo Ci caschiamo di nuovo Fa la stessa mossa di prima Tentando una mossa all'esterno Per poi Cambiare la traiettoria Noi di nuovo al bloccaggio È Un pilota davvero Davvero forte E noi Attenzione qui Un piccolo rischio Si alza addirittura Al posteriore Da terra E effettuiamo la stessa mossa di prima Questa volta Siamo stati molto aggressivi Forse troppo E La situazione con Kiviat Sta degenerando Infatti vedete come Lui si butta Anche se A differenza Dei scorsi giri C'era meno spazio E prova Un sorpasso Che porta al contatto Per fortuna Nessun danno Per nessuna delle due vetture Però lui Con DRS Non riesce a tenere La nostra velocità di punta Infatti noi ci ributtiamo Di nuovo all'interno Testa a testa Lasciamo lo spazio E E proviamo di nuovo La stessa mossa E lui però Stavolta Che non lascia Non lascia alcun spazio Quindi Una serie di mosse Scorrette Da parte di entrambi Però Kiviat Sta diventando Molto aggressivo Vedete come Tenta Tenta il tutto Per tutto Quando siamo a Quasi un giro e mezzo Dal finale E Riusciamo a tenerci Ora la posizione E Siamo di nuovo Quindi ottavi Qui siamo All'ultimo giro Considerando le mosse Che ha effettuato Negli ultimi minuti Non mi aspetterai Una mossa Alzartata Da parte sua Infatti ci prova All'ultimo Con una staccata Incredibile Ma noi andiamo Di nuovo al bloccaggio Lasciamo lo spazio Un po' o meno Questa volta Perché comunque È l'ultimo giro Abbiamo In qualche modo Tenerci la posizione Ma vedete come Esce molto bene Nonostante tutto Con scia DRS E Si butta E lasciamo l'esterno Per poi buttarci Noi all'interno Ma andiamo al bloccaggio Quindi È passato ormai È passato All'ultimo giro Incredibile Dobbiamo Tentare ora Una mossa Perché non posso Farlo I curvoni Veloci Ci proviamo Lui un po' lungo Un po' stretti Con il bloccaggio Ci riusciamo Non avrei mai Potuto tentare Il sorpasso In questa zona qui O nelle zone successive Perché È il terzo settore È il mio peggior settore Con la trazione posteriore E con l'usura Delle gomme anteriori Davvero Non riesco a fare nulla Infatti vedete Come vado Molto Molto cauto In queste ultime curve Proprio per evitare Errori Come fatti Nei giri precedenti E ormai Penso sia fatta L'ultima curva Abbiamo Kiviat Dietro Con la trazione Potrebbe tentare Qualcosa Ma no Non riesce Infatti è finita La gara così E Lewis Hamilton Diventa campione Del mondo In seguito A quel contatto Alla prima curva Con Raikkonen Che lo ha messo Fuori dai giochi Peccato Peccato Per lui E per la Ferrari Che Con questo Risultato Ha perso Anche il titolo Costruttore Di 8 punti Incredibile Nonostante tutto Però possiamo vedere Come a fine stagione Ci sono Tre piloti diversi Di tre scuderie diverse Sul podio Un sintomo Di Di grande varietà In questo campionato Ricordiamo che La vettura più forte Al momento È quella della Ferrari Quindi In caso di Un contratto Con loro Non ci penserò Due volte Ci andrò Nonostante abbiamo Paricchi punti Con la McLaren Da poter investire Ora qui Andiamo quindi A vedere Sia io Che Fernando Abbiamo perso Il stesso numero Di posizioni Dalla partenza Un sintomo Che in gara La McLaren Non rende Al massimo Fernando Sempre ottimo Comunque In qualifica Nell'ultimo periodo È stato imbattibile E quindi Chissà Cosa accadrà Per la prossima stagione Chissà Che offerte Di contratto Riceveremo Eccoci qui È Termine della stagione Come Solide cose Di routine Quinto posto Alla fine È Molto Molto Inaspettato Mi aspettavo Appunto Di finire Nella top ten E Attenzione Perché Abbiamo L'offerta Delle Quattro Scuderie Più Forti Attualmente Di campionato Non mi sarei mai aspettato Il risultato simile Considerando che Di solito C'è Obbligatoriamente A quanto mi ricordo Un team Appunto Di quelli Scarsi Uno Uno Di quelli A fine Schieramento Ma Come detto Appunto Anche in precedenza Mi sembra che la Ferrari Sia al momento La più forte E Mi piacerebbe Davvero tanto Andare Ferrari Anche se Mi dispiace molto Lasciare Fernando Anche se Con tutti i punti Che abbiamo Raccolto Sono sicuro Che riusciranno A perfezionare Un'auto In grado Di battere Con la Ferrari Quindi Vado in Ferrari Con la speranza Di rincontrare E Fernando E di lottare E di lottarci Il più possibile E Magari Di divertirmi Anche con lui Quindi Scelgo la Ferrari E Andiamo a vedere A conclusione Di questa Prima stagione I risultati finali Come avevamo Detto Precedentemente Appunto Come possiamo vedere La Ferrari La migliore In termini di prestazione Al momento Seguita da Mercedes E Red Bull Poi ci siamo Noi con la McLaren Che Ormai Bisognerebbe dire Loro con la McLaren I risultati Delle gare Che abbiamo effettuato Davvero Un ottimo bottino Al termine Della stagione Comunque Un risultato Incredibile Con la Ferrari Potremmo fare Davvero grandi risultati Magari anche Vincere il titolo Quindi Per questo episodio È tutto Per questa stagione È tutto E Alla prossima